Su Ignazio Marino che ieri ha presentato la nuova giunta potrebbe abbattersi presto la relazione al governo del ministro dell'interno Alfano su mafia capitale. Secondo anticipazioni di stampa il Viminale non proporrebbe lo scioglimento per mafia ma evidenzierebbe i gravissimi episodi che hanno segnato l'attività della giunta Marino per i rapporti con l'organizzazione criminale guidata da Salvatore Buzzi e Massimo Carminati. L'Aula del Senato vota oggi la richiesta di arresto per Antonio Azzollini, NCD, ex presidente della Commissione Bilancio. È accusato di induzione alla corruzione bancarotta nell'ambito dell'inchiesta di Trani sul fallimento della Casa della Divina Provvidenza. Il PD che aveva votato a favore in giunta ieri ha dato libertà di coscienza ai suoi senatori. Figura nelle carte dell'inchiesta su Roma Capitale, anche se non era indagato, il nome di Mauro Balini, il presidente del porto turistico di Ostia, ha finito in carcere stamattina a Roma insieme ad altre tre persone. Sigilli alla struttura turistica per un valore di 400 milioni di euro. Il porto di Roma era prossimo ad un ampliamento che ne avrebbe raddoppiato i posti barca. È arrivata questa mattina a Messina una nave irlandese dell'operazione Triton con a bordo 14 corpi recuperati su un barcone stracarico di immigrati. Soccorso lunedì a largo della Libia, 453 emigranti sbarcati, tra loro moltissimi bambini. Altri 692 sono diretti al porto di Reggio Calabria a bordo della nave di Medici Senza Frontiere. Travestiti dai rappresentanti delle forze dell'ordine mettevano a segno furti e rapine dopo essere entrati nelle case grazie a falsi decreti di perquisizione. Due bande di malviventi che agivano allo stesso modo sono state sgominate dai carabinieri di Napoli. 13 le persone arrestate. In questione di ore la candidatura di Michel Platini alla guida della FIFA. L'ex Juventino, numero uno dell'UEFA, scende in campo per sostituire Blatter, travolto dallo scandalo corruzione. Tra i sostenitori di Platini in prima fila l'Italia voteremo per lui, ha detto il presidente federale Tavec.